So che a volte magari questi video possono dare fastidio perché comunque sembrano video fatti un po' lì così, fatti male, non molto bene Però secondo me ogni tanto ha senso andare a parlare così faccia a faccia io vicino a voi senza musica, senza annunci Per un tot di tempo di magari certe condizioni o di certe cose che magari noi youtuber proviamo E che magari voi dall'altra parte dello schermo fate fatica a capire Perché dietro per l'appunto lo schermo in cui guardate me, in cui guardate Luke C'è tutto un mondo di cose che magari sono un po' ignote ecco Ovviamente vi invito a guardare il video fino alla fine se volete comunque avere un'idea più completa di quello che sto per dire E vi anticipo già che ci saranno veramente pochissimi tagli perché non avrebbe senso È uno di quei classici video in cui io parlo a ruota libera proprio Cioè senza veramente barriere, senza tagli, senza un editing, senza niente Il titolo è ironico in realtà È ironico perché uno youtuber di 10 iscritti non fa questi video Uno youtuber di 10 iscritti non fa clickbait E questo video è profondamente clickbait in un certo senso Perché attira, attira molte persone E in questo caso l'ho messo proprio come mezzo ironico Perché oggi volevo parlarvi proprio di questo Del fatto che sì, io vorrei in un certo senso avere 10 iscritti Vorrei tornare indietro nel tempo, a quando avevo 10 iscritti Perché noi youtuber ragazzi, e penso che questa sia una cosa comune a quasi tutti gli youtuber Youtuber big intendo, quindi per big intendo più o meno dalla mia situazione Ma anche da molto prima È una malattia che presenta dei sintomi molto anche precoci ecco Che di fatto è quella del successo Ora, noi sappiamo tutti ragazzi che qui su youtube si inizia per passione Tutti iniziamo per passione, non c'è nessuno che arriva qui su youtube e inizia perché vuole fare i soldi O è una facebook star, però anche lì su facebook inizi per passione Oppure è qualcuno che arriva qui su youtube per fare soldi ed i soldi non ne fa Perché qui se tu non ci metti all'inizio soprattutto la passione Da nessuna parte non vai perché ti scassi, ti rompi le palle È così, è così, non ce n'è Tutti noi iniziamo con una passione, poi quando iniziamo a crescere E per crescere intendo anche solo arrivare a mille iscritti per dire, ma anche prima Si instaura in noi una certa condizione Di cui io mi sono accorto qualche giorno fa Vedendo come un mio video è andato male a livello di visual Ed è la malattia del successo per l'appunto Questa malattia che ci discosta a noi youtuber un pochino dalla passione che avevamo inizialmente Dico noi youtuber perché ripeto, secondo me è una cosa che accomuna molti E sulla quale ho fatto per l'appunto delle riflessioni Mi sono detto, cavolo ma quando io avevo 10 iscritti Quando avevo 100 iscritti Io me ne fregavo Cioè io me ne fregavo delle visual che avevo Me ne fregavo dei risultati che avevo nei miei video Non me ne accorgevo, non me ne accorgevo, non notavo la differenza Era incredibile perché caricavi per il gusto di caricare E non c'era nessun mezzo numerico che può essere un iscritto, un like O un commento che ti frenava da fare una cosa Non c'erano i feed nel senso che nessuno li calcolava Non era importante che ci fossero noi feed Era importante caricare E questa cosa mi manca un po' Mi manca perché ho notato come per quanto io sia comunque sostenitore del fatto che secondo me Se tu sei in pace con i contenuti che porti sul canale Poi ti importa meno dei risultati Io quando portavo dei video bellissimi Che io ritenevo bellissimi per quanto riguarda gli standard del mio canale E che andavano male Comunque alla fine mi interessava il risultato materiale Il video in sé, non tutti quei valori numerici che ci stanno dietro Però è anche vero che Che comunque nonostante ciò Sul morale E sulla voglia di fare il successo Ha davvero un'impronta pesante E io vorrei che non fosse così Vi dirò, io vorrei che non fosse così Vorrei caricare un video e fregarmene Che faccia mille, duemila, tremila views Però non ci riesco Magari a volte mi illudo di riuscirci Ma non ci riesco Perché in realtà nel momento in cui tu cresci su YouTube Hai sempre questa brama di successo La sete di potere di successo Che poi è il veleno di ogni società, no? Per avere successo Molti si spingono fino alla criminalità Alla mafia Fino ai brogli elettorali È una cosa che accomuna tutte le società E in particolare tutte le comunità E quindi anche la community su YouTube È afflitta secondo me da questa cosa È afflitta dal fatto che la gente cerca successo In realtà la gente fa il clickbait per questo Per fare visual, per fare iscritti Ed è una cosa che in realtà è profondamente Intrinseca nella natura umana È un qualcosa che è naturale Cercare il successo E purtroppo non possiamo sfuggirci Nemmeno io Che personalmente Dopo magari un giorno di tristezza Perché il video magari è andato male Me ne sbatto altamente Però c'è Ed è un argomento su cui volevo riflettere Per farvi capire un attimo cosa potrebbe provarsi Molti dicono Ma tu hai bisogno di fare clickbait Hai bisogno di fare questo video per fare visual Ma tu non ne hai bisogno Vero Verissimo Anch'io non ho bisogno di fare 2500 visual Al posto di 1500 Però se non le faccio mi prendo male Ma non è una questione di soldi Cioè A me non entra in tasca Più di 10 centesimi Se faccio 2500 visual Al posto di 1500 È una questione Di Neanche orgoglio Proprio di sete di successo E nessuno se Nessuno scampa da questa cosa Nessuno C'è chi ci riesce un pochino meglio C'è chi si illude Però siamo tutti lì Tutti dal primo all'ultimo Il fatto di chiedere like Il fatto di Di chiedere le iscrizioni Il fatto di volere anche su instagram E sono tutte Tutte Tutti sintomi Tutte dimostrazioni Di questo tipo di pensiero Che si incarna Nel youtuber Che raggiunge un certo successo Io prima di snakewood Prima di fare il successo Con pokemon snakewood Non pensavo a queste cose Io caricavo quello che mi veniva Scrivevo i titoli in minuscolo Scrivevo dei titoli Che non attiravano per niente Eppure Nonostante ciò Nonostante ciò Io Ero Ero serenissimo Ero tranquillissimo Ogni volta che caricavo Ero felice di farlo In video molto Joe In video molto Joe 97 Da questo punto di vista Io l'ho detto anche personalmente Ci tenevo a fare il suo esempio Lui ha 2550 iscritti Ora scusa Joe Se non mi ricordo benissimo E una cosa come 100 visual a video Quindi un pubblico Veramente inattivo Veramente inattivo Però io apprezzo davvero Il suo modo di fare Perché lui ha detto A me non interessa Di caricare Quando c'è il feed giusto Quando c'è il giorno giusto A me va di caricare Lo faccio proprio per hobby Senza curarmi della visual Senza curarmi del like E tenendomi attaccato A quelle persone Che mi seguono assiduamente Io E io lo invidio E lo stimo per questo Tra le tante persone Che stimo su youtube Joe da questo punto di vista È una persona Che veramente ammiro Perché Perché vorrei essere come lui Sotto certi punti di vista Vorrei poter caricare un video E nemmeno andare a vedere Come è andato dopo un'ora Cosa che io faccio sempre Vorrei poterlo fare Ma ovviamente Non posso Perché Perché è una condizione Tipica dell'uomo questa E E uscirne è molto difficile Joe ci è riuscito Perché Joe non ha più un obiettivo Di base E non è Non è una cosa brutta in realtà Non avere un obiettivo È un caricare Per il gusto di caricare E secondo me È una delle cose migliori Sulla piattaforma Che uno possa vedere A parte il video di qualità A parte il video bello A parte gli iscritti A parte tutto Il gusto di caricare Per caricare È una cosa che si perde ogni tanto Non fraintendetemi Io ne ho tantissima di passione Il video dell'altro giorno Di cosa pensano le mega evoluzioni 2.0 L'ho editato tutto un pomeriggio Io ho avuto una passione Della madonna Nel farlo Non mi è importato Nulla del tempo Che sprecavo È il risultato Che corrode questo È il risultato Che corrode questo Ti fa passare la voglia Ti fa passare la passione Io ci ho pensato Qualche giorno fa Ho detto anche Ma Ma sai Io valgo di più Io valgo di più Di quello che ottengo Perché dovrei rimanere Su youtube A mostrare Un 5% Di quello che sono Io sono molto altro Rispetto a quello che vedete Perché Io che cerco di essere Magari in un certo senso profondo E faccio dei contenuti Un po' diversi Non ho successo Anche se magari Meriterei di più Di certi video Che io stesso carico E la risposta è che È che il social Youtube Instagram Facebook È È il regno della superficialità È il regno della superficialità Perché la gente Quando viene a vedere un mio video Vuole divertirsi Vuole divertirsi Vuole passare 20 25 minuti 30 minuti 5 minuti Di divertimento E poi rimuove tutto E poi E poi rimuove tutto E L'essere una persona Come me Secondo me Che mi ritengo Troppo addirittura Troppo profondo In alcuni casi Su Un luogo così Superficiale Poi mi 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 rode Ecco Mi rode Perché io Mi chiedo Ma Ma perché sto qui Ma perché sono qui A fare video Per certa gente Sono pensieri Passeggeri Poi vanno via Sempre Mi è successo sempre Che di avere pensieri Del genere Di dire Cavolo ma io Lo chiudo sto canale Ma Ma perché Ma non mi rappresenta Ma non Ma sono io al 5% Ma io sono molto di più Ma posso fare dell'altro Poi ovviamente Scemano questi pensieri Scemano Perché Non è la verità Non è quello che penso veramente È dovuto Proprio A questo concetto Di Mi è andato male il video Pensieri di questo genere Sono prodotti Da 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 Insuccessi Dal punto di vista Numerico E Vorrei che non ci fossero Vorrei che non ci fossero Perché Perché si sta male Quindi vorrei avere 10 iscritti Ma non nel senso che Vorrei eliminarvi tutti Nel senso che Vorrei Comportarmi come se avessi 10 iscritti Ed è una cosa che non mi riesce A me dispiace Per quanto io sia pieno di passione Per quanto io non chiuderei mai Questo canale In questo momento Perché ho il tempo di portarlo avanti Però vorrei averceli 10 iscritti E vorrei Vorrei caricare Per il gusto di caricare Senza preoccuparmi che Che Il mio video profondo Che mi piace Vada bene O senza preoccuparmi Del fatto che lo speciale Vada bene o vada male Per il gusto di farlo il video Per farlo Per vederlo online È Una cosa che si è persa E io ammiro Quegli youtuber come Joe Che invece non hanno Questo vincolo Che riescono a liberarsene Io non ci riesco Vado vicino Perché comunque Non faccio cose scandalose Per avere successo Però vado vicino E E sinceramente mi dispiace Però penso di non poterci fare niente E questo video in realtà È per spiegarvi un attimo Questa Questa tendenza Che abbiamo tutti noi youtuber Un pochino più grandi A A fare sempre Cose Che piacciono A lamentarci di un video Che magari va male O robe del genere Perché Perché in fondo siamo uomini In fondo siamo uomini E se l'uomo non fa così Non è uomo E nada Questo era quanto Volevo solo Spiegarvi un attimino Questo concetto E Spero anche di essermi fatto capire Abbastanza bene Detto ciò Io Nada Ovviamente dal prossimo giorno Ci saranno video divertenti Cioè Ci sono i soliti video Però ripeto Ogni tanto Le luci Ogni tanto Penso sia Utile anche Fare questi video Perché voi potete Capire meglio me Magari dai commenti Io posso capire meglio Quello che provate voi Purtroppo è una cosa Che da fuori Da iscritto Non riesce a capire E Non lo dico perché Siete stupidi Lo dico perché Anch'io sono stato Uno iscritto ai canali Prima di avere un canale E so come si pensa È normalissimo È come È come Quando io esprimo Giudizi sul calcio Su quello che pensano I calciatori Non sono dentro Non posso capire Ma se fossi dentro Probabilmente agirei Come loro All'incirca E E Mi piacerebbe non farlo Comunque io spero Che questo video Vi abbia trasmesso qualcosa Se è così Vi invito a lasciare un bel mi piace Un commento Un'iscrizione Al canale Anche se comunque Non è fondamentale Però siccome Comunque Nel video Espresso questo concetto Io Vedete che meccanicamente Tendo a chiedere like È una cosa Che purtroppo Ci accomuna tutti Poi vi invito A passare ovviamente Da Instagram E a premere la campanella E noi ragazzi Da domani Ci becchiamo Con dei video Molto 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 Diversi da questo Però ripeto Ogni tanto Ci sta Esprimersi